Il campionato di basket di Serie 2 è fermo per la Pasqua, ma l'NPC non tornerà in campo, come tutte le altre squadre, domenica 3 aprile. La partita contro Siena in programma è stata infatti posticipata martedì 5 aprile alle 21. Lo spostamento è dovuto alla convocazione con la nazionale Under 18 dal 22 marzo al 2 aprile dell'atleta senese Lorenzo Bucarelli. Comunque questi non saranno giorni di riposo perché la squadra di Mister Nunzi continuerà ad allenarsi e a prepararsi in vista del match con i Toscani.